ben tornati nella seconda puntata della l'alte a mangiare ho scoperto attenzione ho scoperto perchè ecco ecco perchè ecco perchè stupido xenomorf io ovviamente rinascoli un uccide no barbone barbone muori pure sono contento che tu muoia muori ho scoperto il modo di difendermi raga su lui riprende la carica per far questo bisogno lui è un barbone totale si è mangiato la mia fornace ho pensato un po' adesso lo so che mi ha pare da dire da ora pure adesso la sera un u ma noi siamo ultra coraggio coraggio dove ti chiede anche le pecore e qua e quando ci c'è grande ha ucciso uno xenomorf troppo leggero però è vero che è un horror puro, già già Minecraft ho a versione horror creazione casa immediata, paura al massimo distruzione totale, cosa sto dicendo? Madonna che vuole la mia spada allora adesso sono in una crisi nera perchè non ho la fornace però mi faccio una mini casa soltanto per passare la notte anziché idea stupenda bella idea raga vado a dormire sugli alberi sono ancora un po' scioccato dallo spavento ah pensavo... adesso le mucche... eh sì le mucche le pecore con la lana nera adesso iniziano a spaventarmi ma veramente nel video precedente sei andate a vederlo ho avuto una paura bestia non mi faccio non mi immaginate neanche non pensavo fosse... brava subito e improvviso ma toccato l'ultimo min allora adesso bisogna fare un salto sovrumano vabbè ok 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 grande mi spuntano fuori pure le mele oh no ecco io ho capitato allora i marines spiegazione dell'acid'unicorno 007 in pratica i marines sono qui per uccidere gli alieni che infatti era una moto che è scaricato per sbaglio mi si installata mi ha fatto paura grazie a morte ccchino no non è vero tutto l'ho trovato quella ferro fortuna mi ha distrutto la cassetta del mio mondo tutto allora ehm quindi dire di mettere un attimo in pausa il video ok